Sicuramente ho trovato un grandissimo entusiasmo per questo nuovo inizio, perché comunque è stata una brutta delusione sia per chi era là, per chi era stato scartato prima, quindi tutte avevamo qualcosa da metabolizzare, abbiamo avuto il tempo e diciamo che questo nuovo inizio con un cambio ti dà quella forza in più che la delusione ti aveva portato via ma la riprendi subito, anzi ti porta qualcosa di nuovo anche. La voglia di riniziare, la voglia di migliorare, la voglia di ritornare nel punto in cui vogliamo essere. Le carte in regola ci sono, abbiamo una grande varietà d'età, nel senso che ci sono quelle più grandi come me, ci sono le giovani che sono 18 anni, hanno appena fatto 18 anni, quindi abbiamo tutto quel margine per dire là ci possiamo arrivare, in più la rinuncia alla World League penso che sia stata un'ottima scelta per poter costruire quello che è la base per andare a vincere, quindi penso che tutte le carte ci sono. Senti, il nuovo allenatore, Carlo Silibo, che prime impressioni ti ha lasciato? Ma allora, sicuramente già solo il suo nome parla chiaro, chiunque è mai stato nel mondo della palanuoto sa che grandissimo campione è stato e sa che il bel percorso è iniziato comunque da allenatore. Ora è passato al settore femminile, penso che questo lo spronerà anche ancora di più a migliorarsi e a far migliorare noi, quindi penso che sia tutto in crescendo. Per me è stata una bellissima notizia e sono stata molto contenta della scelta. E questo allargamento dello staff con presenze anche femminili di ex giocatrici? Mi piace, mi piace perché da una parte sono ragazze con cui io ho giocato, conosco, so il loro valore e in più perché penso che sia un bel messaggio per tutti, dire sono ragazze che hanno speso tantissima parte della loro vita in questa vasca ad allenarsi, farsi in mazzo, tutto quanto e comunque ora continuano il loro percorso in modo diverso ma aiutando noi, quindi penso che sia bellissimo questo continuo. Senti, la delusione è stata messa alle spalle, il dolore è ancora forte, enorme. Allora io dico che non è una cosa che dici è passata, comunque la tieni dentro, ho avuto tanto modo per metabolizzarla, non penso che sia stato un periodo facile però ora mi sento bene, un po' perché è passato il tempo, un po' perché c'è questo stimolo nuovo. Comunque alla fine è la mia grande passione come quella di tutte noi, diamo tutto per questo sport e avere un'altra occasione nuova per dire riniziamo da capo e dimostriamo che in realtà non siamo quelle, mi fa star bene, mi ha dato una spinta nuova. Il 25 luglio si aprirà il torneo femminile a Tokyo, l'Italia non ci sarà nonostante sia salita sul secondo gradino del podio a Rio, ecco quel giorno secondo te si aprirà di nuovo questa ferita o sarà più forte invece la sensazione del no voglio tornare lì? Io penso più la seconda che hai detto perché al 25 luglio penso che probabilmente saremo qua ad allenarci per quello che sarà il dopo, quindi saremo già lì a costruire e avremo già la consapevolezza di dire ok non siamo là ma ora siamo qua, in questa piscina forse, non so se è questa o un'altra, per quello che verrà dopo, quindi non stare a rimuginare sul passato ma dire ok abbiamo sbagliato quello, ora abbiamo ancora più grinta per il dopo. Grazie Elisa. Grazie a voi. Grazie.